Per trovare lavoro bisogna partire dalle richieste del mercato. Certo, la situazione economica non è delle più rose, ma ad aumentare la disoccupazione del 2,4% secondo i dati Istat del primo trimestre è il fatto che spesso domande e offerta viaggino su due binari paralleli. Fondamentale è il dialogo tra formazione e aziende. Dal nostro territorio arriva un'iniziativa esemplare per i disoccupati e gli inoccupati. A promuoverla nell'ambito delle attività del progetto STEP, Servizi Territorio e Persone, finanziato da Regione Lombardia, il Consorzio Consolida, l'Unità Lecchese di Mestieri Lombardia e i progetti Livingland Valoriamo. Due corsi di formazione gratuiti di 40 ore ciascuno, più uno stage retribuito in azienda di 3-4 mesi, con retribuzione 500 euro mensili per il tempo pieno e 350 euro mensili per i part-time. Il primo prepara gli addetti alla posa dei serramenti, è rivolto alle persone tra i 18 e 29 anni, per un massimo di 6 allievi e si terrà in collaborazione con l'azienda GITICI Serramenti dal 23 novembre al 17 dicembre. Il secondo è dedicato ai futuri camerieri ed è riservato a 8 allievi dai 18 anni in su. Si terrà in collaborazione con il ristorante Suquadro di Lecco tra il 19 novembre e il 17 dicembre. I requisiti richiesti sono essere inoccupato o disoccupato e non essere iscritto a percorsi di studio di qualifica superiori o universitari, avere la residenza o il domicilio in Regione Lombardia e una buona conoscenza della lingua italiana. Per partecipare al bando bisogna inviare curriculum e codice fiscale all'indirizzo mail formazione-consorzioconsolida.it entro mercoledì 10 novembre.